E beh, si dice una volta, quello che mi ha detto, allo fine, e tu non ne fidi più. Che vi lo dà il marito? Non è mio nono valuto. Se non volete bene, non te lo chiedi. Io non lo volevo, ma non volete andare fuori. E ma è fatto e non te ne fatti niente. E io me lo faccio. E io te ne ho curato con baci. E' partita, ma ce ne ho curato qui. Ma che è la sua, 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 la sua. Ma badatevi, e io non so, io lascio.